mister gianni borrelli avevi lasciato questo campo nel marzo del 2020 non c'erano frizioni con società purtroppo il covip è una storia che conosciamo tutto a tutti ha fermato il calcio e non solo ma vi ha tolto il più bello diciamo eravate oramai a un passo dal traguardo se si fosse giocata la domenica successiva a marzo poteva già essere quella giusta per festeggiare tutto fermato poi però il casalbordino è salito in eccellenza grazie al lavoro fatto da te e della tua squadra sei tornato per completare quell'opera si è rassunto bene tutto diciamo che a livello umano a livello sportivo a livello professionale probabilmente è stata una gioia non espressa quindi se sono qui perché vogliamo ricominciare ripartire da quello lavorando ma soprattutto facendo parlare il campo di noi e ripartendo appunto da da quell'esperienza cercando eventualmente di cogliere se siamo bravi se siamo umili se siamo tenaci se siamo forti se siamo lavoratori quell'obiettivo e quindi qui per per gioire quest'anno anche perché due anni e mezzo fa non c'era il sintetico c'era un campaccio possiamo dirlo sarà un ulteriore motivo per provare a dare qualcosa in più perché campi come questi stimolano esatto è un po' il fiore all'occhiello della società del paese hanno fatto finalmente una struttura che sia consona alle aspettative e quindi anche un bene quando appunto tutto il territorio si dota di queste di queste strutture quindi alla fine un plausolo va appunto all'amministrazione che ha fatto sacrificio alla società che gli è stata vicina e niente quindi veramente un bel campo tenuto benissimo quindi pronti ad esprimerci su questo biliardo tra virgolette in questi giorni girando nelle altre realtà che sfiderete da fine agosto in poi abbiamo ribattezzato il gironecci di promozione come un'eccellenza 2 e forse l'etichetta migliore visti gli organici che si stanno allestendo si se poi faccio una riflessione da tecnico probabilmente questo ci deve far riflettere probabilmente quello che sto dicendo l'hanno detto anche dei colleghi avere quattro compagine retrocesse segna che probabilmente qualche errore lo si è fatto anche in buona fede se vuoi però questo dovrebbe deve essere un motivo di slancio un motivo di programmazione un motivo di costruzione un motivo di riqualifica del territorio quindi se sono qui lo dico l'ho detto appena detto anche ai ragazzi la categoria è relativa sono importanti contenuti è importante il progetto è importante riqualificare appunto un territorio ma dare l'opportunità di far bene ma soprattutto di costruire con un programma pluriannale qualche cosa di un programma appunto ambizioso ma con solite basi l'estate ti ha visto protagonista lontano da casa il supercorso da allenatore a coverciano che cosa ti ha lasciato mi ha lasciato innanzitutto un'esperienza sotto l'aspetto umano incredibile mi ha lasciato tanto tante motivazioni se vuoi è stato anche un premio la mia io dico sempre modesta carriera se sono stato lì perché probabilmente me lo sono anche meritato valutando chi c'era quei miei compagni di corso l'essere lì mi ha veramente impreziosito ma soprattutto orgoglio orgoglito da ognuno di loro catturato qualcosa perché era importante farlo naturalmente anche quello è un motivo di orgoglio ma è anche un motivo di di spinta per dare il meglio di me stesso quest'anno